Bella YQ, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare le reaction dell'Italia ritornano le reaction, siamo insieme a tutti i ragazzi, ma poi vedrete nel video partita è importantissima perché l'Italia deve vincere, perché dobbiamo andare in finale dei playoff se perdiamo, c'è la mondiale, noi ci vediamo con il video a presto il mobile è scostato non è spardo ma è mobile è il porco più guarda no di guarda no guarda no guarda no guarda no ecco il brasiliano lo spazio per il attimo tino no no Mano! 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 Il primo tempo un'Italia che sta facendo... Ma che chiede? Ragazzi c'è il secondo tempo! Dai, mano! C'è uno quasi... Che stiamo? Per la dittura? Per la dittura? Per la dittura? No! E' un cazzo qua, con il sinistro... No! Non cazzo qua non stai scuolando... Ma non è brutta sani... Non ha stranato... Non c'è l'amato... Ma non c'è l'amato... Ma io non lo credo neanche, non cazzo qua... Ma non cazzo qua... Ma non ciò? Oh, però! No! Non cazzo qua! Ma io invece te lo regalo! Ma adesso è culo! Eccolo! Vole la propria testa! Volevo! 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 Che stai qua? Oh, il bel racco! Volevo! 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 Non ci entriamo! Non capirai? No, ma noi ci siamo! Ma si è preso! Bravo! Bravo! Volevo! Oh, si è bollata, forco! Oh, basta, grafica! Basta, grafica! Ma stiamo scherciando! Ma stiamo scherciando! Stiamo scherciando! Stiamo scherciando le mani! C'è! Un tiro hanno fatto questi! Uno! Quattro! No! 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 No!